Guarda che posto! I rifugiati devono restare negli alloggi temporanei fino all'inizio della gara. C'è una sola regola. Puoi lasciare gli alloggi solo se accompagnato dal mentore. Il mentore? Chi è il mentore? È proprio là, dietro di te. Ah, così ti chiami il mentore? Sì. Mi chiamo mentore. Sì. Il pubblico è tutto concentrato sul rifugiato, come pensava? Ovvio, ha maggior ragione perché è arrivato in finale. Ma è più importante ciò che accadrà ora. Sì, signore. Questa gara di selezione dei corrieri è stato un vero colpo di genio, se mi consente. Da questo momento in poi vorrei che questi colpi di genio venissero a te. Sì, farò del mio meglio.